Alla fine il primo stop della stagione è arrivato, poteva essere un pareggio a Verona, invece è stata addirittura una sconfitta contro una squadra che fino a quel momento non aveva fatto un punto, tre sconfitte in tre partite e la Roma invece tre vittorie in tre partite in campionato. Purtroppo non ci sono alibi e non ci sono giustificazioni per una sconfitta, perché poi la Roma nel primo tempo aveva chiuso comunque in vantaggio con un gol straordinario di Lorenzo Pellegrini e tutto poi vanificato nel secondo tempo. Anche il primo tempo non è che sia stata comunque una grandissima partita, però nel secondo tempo il Verona ci ha messo quello che invece avrebbe dovuto mettere la Roma, cioè quella cattiveria in più per cercare di andare e chiudere la partita, perché questo avrebbe dovuto fare comunque una squadra come la Roma. Invece il Verona ha messo in difficoltà la Roma, ha trovato prima il pareggio, poi il gol del 2-1 che siamo poi riusciti a recuperare con un autogol e poi è arrivato il gol di Faraoni solo e al limite dell'area di rigore a battere comunque un incolpevole Rui Patrizio. Certo è che oggi sono state evidenziate ancora di più quelle che sono le mancanze di questa squadra, la mancanza del centrocampo e la mancanza poi sulla fascia destra, sulla fascia destra difensiva della Roma, dove le azioni arrivavano maggiormente da parte della formazione di Tudor. Le più grandi difficoltà sono arrivate proprio da quel lato lì, sinistra d'attacco del Verona e destra di difesa della Roma. Centrocampo che è stato a fine messo in grandissima difficoltà dal Verona. Molti dicono che servono le sconfitte per ritornare un po' alla realtà, adesso ci saranno le solite boiate sull'ambiente di Roma che già parlavano di Scudetto, tutte cavolate, non c'è assolutamente niente perché qui nessuno ha parlato mai di Scudetto ma certamente di un inizio di un percorso. Ecco questo è un percorso che la Roma sta iniziando ma certamente un uomo come Murigno non potrà mai accettare comunque una sconfitta del genere con tutto il rispetto per il Verona, comunque una squadra che avrà veramente anche grosse difficoltà in questa stagione. Verona certo non porta bene, lo scorso anno lo ricorderete, la questione dell'ineffabile e grande professionista lungo che oggi è direttore operativo del Verona, col giocatore che non era stato messo di avarà nella lista e oggi è addirittura con la prima sconfitta in stagione. Dicevo comunque un uomo come Murigno di certo non accetterà di buon grado, non potrà mai accettarla di buon grado una sconfitta del genere e farà chiaramente di tutto per dare subito una sterzata, una sterzata immediata alla squadra che dovrà giocare giovedì contro l'Udinese e domenica 18 contro i complessati. Quindi bisognerà chiaramente cercare di ripartire e ripartire subito perché l'obiettivo è sempre quello della Champions League e della zona Champions League. Quindi cerchiamo di non buttare tutto a mare assolutamente, di analizzare quelli che sono comunque i problemi che ha la Roma ma di migliorare naturalmente. Ecco oggi anche davanti non è che si sia visto granché, non una grandissima giornata anche da parte di Ebram ma sono poche possibilità, poche conclusioni anche sfruttate, poche occasioni anche sfruttate. Però fondamentalmente bisogna comunque lavorare molto sul centrocampo e anche sulla fase difensiva perché il gol di Faraoni secondo me grida comunque vendetta perché non puoi lasciare il giocatore solo lì al limite dell'area battere a rete con grandissima tranquillità. Un abbraccio a tutti quanti voi e sempre 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 Forza Roma! Forza Roma! Forza Roma!